La moto è pronta. Nel box cala il silenzio. L'unico suono sono le moto che ballano in pista. Sao il pilota è molto importante. Ma di rispondere le cioè, sempre sia importante. Ma la cosa che si tratta, è molto difficile. Ma ancora tanto, la cosa che mi piace, è il pilota l'auto. Cosa è sicuramente Mounton, ma anche il r1. Il mio dico è molto importante. I meccanici non possono sbagliare, i piloti sono nelle loro mani. Per i serraggi della moto servono la forza e la precisione della chiave dinamometrica. Il sistema di beta per la regolazione della coppia di serraggio delle viti per noi è super affidabile. La sicurezza ce la dà il click che produce nel momento in cui arriviamo alla coppia desiderata. Quindi quello ci dà la sicurezza di essere a posto. Quando si ha voglia di vincere, non ci sono barriere che tengano. La scuola è un'altra scuola. Grazie! Eccolo! Eccolo! Il rapporto con Cota è stato intrigante fin dall'inizio perché ho ricevuto un ragazzo che non parlava inglese. Mi ha fatto non parlare in un paese ma non si può parlare in un paese ma tutti i problemi non parlavano in un paese ma non parlavano in un paese e non parlavano in un paese E' difficile praticare questo sport ma non ho bisogno di comunicazione ma è stato anche molto interessante ed evolverlo durante l'anno. In questo insomma anche l'armonia che secondo me la squadra è riuscita a trasmettergli ha fatto molto accelerare queste tempistiche. Eccolo! O互いの信頼感というのは どんどんどんどん 今年2年目入ってますけど このオフシーズンのテストでも 高まっているな お互いの信頼関係というのは 高まっているなと思います ご視聴ありがとうございました